Ce l'abbiamo fatta, signori. Chiedo scusa, ma il programma non voleva, non mi ha accettato la chiave, non ho capito, ho provato ad arrivare più e più volte, ma adesso direi che ci siamo. Scusate per l'attesa, scusate per l'attesa, davvero. Ok, ci siamo. Ok, buonasera ragazzi, tra l'altro qua nell'anteprima, qua da cellulare, per leggere la chat, non mi fa vedere una favola, non mi fa vedere. Io vi do intanto benvenuto, allora, chiedo scusa. Ok, allora, scusate. Bene. Bene. Oh, ormai, ormai, ci siamo, fantastico. Allora, non so se molti di voi magari conoscerà questo gioco. Allora, questo è un gioco, un horror asimmetrico. Cosa vuol dire asimmetrico? Vuol dire che da, ci sono, da una parte i sopravvissuti, dall'altra parte i killer. Ecco, è un attacco di fame. I sopravvissuti sono quattro, che devono, per scappare dalla mappa, aggiustare dei generatori per poter uscire dai cancelli. E dall'altra parte abbiamo un killer. Sono diversi killer disponibili, ne abbiamo anche qualcuno proveniente da qualche film, ma direi... E vi faccio vedere, giusto, due o tre. Ok, e qui abbiamo uno di chi... No, sfinimento. Ok, di misce il tempio di lancio da accetta... E direi... Ok. Io spero di non avervi fatto attendere troppo. Spero. Passiamo un pelino qua, in game. Tanto qua, direi... Ci siamo, ci siamo. Domanda. Mori, mori, mori poi. Mi faccia la domanda, ste. Mi faccia la domanda. I frammenti? I frammenti? Eh... Devi fare il mazzo. Devi salire di livello giocatore. Insomma. Hai il tuo da fare. Allora, praticamente... Sì, 9.000. Allora, praticamente ogni... Sai che c'è il livello giocatore, no? Lì, ogni livello che fai, il livello giocatore, mi pare che ti dia dai 200... 250, 300... Sì, dai 200 e 300 frammenti. No, te li da anche... Ora, se non mi ricordo male... Anche... Eh no, sì, solo con livello di giocatore, sì. Grazie, grazie. Chiedo ancora scusa, ma... C'era il programma che... Non riesco ad andare in stream, perché... Che ne so. Allora, intanto silenziamo qua. Andiamo alla ricerca dei nostri sopravvissuti, o presunti tali, perché... Sapete che qua... Allora, le sagome che vedete, quelle rosse, sono i generatori. E noi dobbiamo fare di tutto per difenderli. Per difenderli da... Dei sopravvissuti che tenteranno di... Aggiustarli! E... E ne abbiamo preso già uno, signori! Questo qui si è fermato qui. E due! Ecco! Allora... Poi... Grazie. Di solito... No! È diverso da Deceit. Deceit... Tu... All'inizio non sai... Chi è... Il... Il cattivo. Headshot. Qua... Sai già chi è il killer. C'è i quattro sopravvissuti. Te puoi scegliere o sopravvissuto... O killer. E... Devi appunto cercare di non farli scappare dalla mappa. Vedi, quando il generatore diventa giallo, vuol dire che l'hanno fixato, l'hanno aggiustato, l'hanno riparato. Come si suol dire o come si vuol dire. Loro adesso cercheranno andare... Vedete l'icona gialla? Quello è il gancio dove ho appeso... Ecco, mi è capitato. Ora l'hanno tirato giù. Guardate, guardate. Imparate... Sono nostra... Uh... Eh, 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 eh. Claudette. Uh... Ok. Direi di... Riappendere lui perché... Mi è capitato lui Ci sta Ci sta, no? Ok Sono un pochino a corto di accetto Vedete l'icona C'è qualcuno qua Che ansima Che cazzo Ecco, ecco Dove sei? Sei qua Mi è caduta di sotto Che storia Che storia Uh, qua Andiamo in cantina ragazzi In cantina, no, si chiama basement Il basamento Le fondamenta Qua abbiamo le nostre accette Lei prendendone una Si ricarica Tutta Tutta la sua cintura Di accette Praticamente Fino a 5 accette Può tenere lei E sentiamo un rumore Qua Da generatore Ok Danneggiandoli Lì Regrediamo Ecco Urca Ma sei di nuovo a te Allora Se lo ripendo Sto Cristo qua No No eh Scherzavo Buttalo giù Ok No Grazie Mi sono distratto Mi sono distratto Ah è ancora lì Giro giro tondo Casca il mondo Casca la terra Tutti giù per terra Tipo ora Preso Preso E ora Se lo Riappendiamo Al nostro gancio Lo Come si dice Lo scenderemo Ecco fatto Andiamo a Ricaricarci Ricaricarci Gli armadietti Dove ci sono Le nostre accette Spaccogli La testa Sì 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 Gli spacchiamo Tutto qua Boom Ok Allora Mancano Tre generatori Che devono Fare loro Un altro È qua Sento il rumore Ok Un altro Qui Che lo stanno Finendo E noi La grabbiamo Salve Signorina Venga con me Che dobbiamo Fare due discorsi Te non hai Capito Figa Che piedi lordi Ok L'hanno tirata giù Cioè Cosa volevi fare Con la torcia Sei seria Sei seria Sei veramente seria E morì Sott'atroci Sofferenze Signori Ok Ok Là hanno finito Un generatore Non l'ho morto Probabilmente Verranno A fare Uno di questi Quindi noi Ci alziamo Sulla nostra Collinetta Qua E vediamo Un po' Se riusciamo Ad adocchiarli Vediamo Vediamo un po' Magari qua No Eh sì No Questo è ancora Rotto Questo pure Questo non l'hanno Ancora Iniziato Ok Scusate No No eh Allora dopo Vi spiego Qualcosina Un po' Meglio Delle offerte Dei Delle abilità Perk Uh Quello No 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 Ok ok Allora la vedi L'icona A sinistra Cioè A destra Ma la prima A sinistra Si chiama Vocazione Di infermiera Questa abilità Ti consente Di vedere Chi si sta curando Entro Un certo Range Di distanza Qua Qua mi sa Qua Qua non hanno iniziato No Non hanno iniziato Ma cosa aspettano Il parroco Quella verde Si Qua c'è qualcosa Allora Devi Questa Abilità Devi sbloccarla Questa abilità È Di proprietà Della Cioè Proprio Dell'infermiera Dopo Talla Faccio La Nurse Dopo Un tot Ha già uscito Hanno preso La botola Non ci credo Avevano la chiave Madonna Vabbè Zero Progressive Rango Zero Ragazzi Miei Allora Dice Ogni Ogni Killer Ha Delle Delle Abilità Proprie Allora Ad esempio Lei Come abilità Sue C'è Stridore Se probabilmente Si simila A rispirare La tua Preda Perché In questo Gioco Conta Molto L'audio Quindi Giocare In cuffie È vitale È vitale Vocazione Infermiera La capacità Che avevo Detto Prima Allora Sì Devi sbloccarla Però Qua Dopo Un certo Livello Livello 15 Dopo Livello 30 Se non Erro Grazie Tiger Benvenuto Buonasera Dopo Un certo Livello Bisogna Sbloccare L'abilità Per Per Renderla Trasferibile Agli altri Killer Ora Io direi Di usare Uno dei miei Killer Preferiti Ah Ah ma vi Conoscete No Ciao Stenis Ah ok Ok Mori Mori Rosso No Però Lo voglio Buonasera Buonasera Balrog Come Stai Tutto Bene Che mi Dici Max Che ti Dico Ho avuto Qualche Problema Tecnico Col Programma Streamlabs OBS La chiave Stream Era giusta Ho provato A riviare Più Volte E alla Fine È andata È andata Il gioco È giusto Perché l'avevo Aggiornato Già Nella Dashboard Ma anch'io Poi Mi sa Che Lavoro Tutto Il giorno Poi Lascerò La palla Aste È arrivata A 7 7 7 Cosa Ok La Mappa Un po' Scura Quindi Per i Sopravvissuti È Molto Buona Ma Quando È già Iniziato Qui Rise Come stai Allora Lil Dwight Io T'avevo Visto Però Sei passato Di qua No eh Scherzavo Ragazzi Sprechi Moris Infatti Infatti Uh 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 Attenzione Guarda lì come corre Quella Cacchio C'ha C'ha Il pepe Super Eh Non fatemelo dire Perché sennò Qua No 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 Ho sbagliato Strada Benone Benone Fatemi Spammare Guarda 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 Ah T'ho sentita Ma cazzo Sei andata Madonna Ma C'era Cosa di qua Però È andata Di là La figlia Di flash Guarda C'è Si è già curata Quanto la odio Sta mappa Eccolo qua Eh Caduta di Franklin Ha avuto successo Di qua Ah Ho usato il dead hard Sto Figlio Di sua madre E di suo padre Che cazzo Di qua Guardalo lì Ah Eh Preso Preso Vai Vai Un bel gancio Lì Qua non ci passiamo In mezzo al pallet Perché non si sa mai Magari Corri Max Corri Ripiamo le nostre boccettine Di intruglio Non ben precisato Eh Questi qua Si danno a fare No Sta mappa qua Guarda Che scioppone Quello Guardalo 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 Tornato indietro Sto figlio E' rimasto Si si Cos'ha Ti vuoi ti baggare Vai Ti vuoi ti baggare Carro Arr BITCH Allora Gancio laggiù Dai non male Non male Perché sta mappa qua È tosta La mappa qua è veramente tosta Uè magnana Come va ragazzi Allora qua bene Sempre guardarsi bene attorno Perché qua Ah eh Biace Bene bene A parte qualche problema tecnico Guarda quella lì Guarda non c'è andare Ma non c'è andare Ne prometto che ti lascio stare Dopo questa ti lascio stare Eh qua stanno Andiamo di qua che Sti figli di brava donna Ecco Lo sapevo io No No sta mappa qua È incredibile Dai Sono fuori dal tunnel Del divertimento Dal tunneling Sto Dai Oh lì Adosso proprio Vai 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 Mai che trovo Eh infatti Infatti Te Figurati Eh Lo sapevo Lo sapevo Il colpo decisivo Dove Merda No 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 Allora Vedete sti segni qua Sono i segni che lasciano i sopravvissuti Quando Corrono E ciò Io sono passato di qua apposta Signora Signorina mia Vai a cagare Vai Ti piace Eh me l'ha fatto Ha fatto Un ragazzo che ho conosciuto qua su twitch un po' Un po' di tempo fa Ha segregato Alla combricola Che cazzo fa col Con il criss Sì sì vabbè Eh lo sapevo Eia Eh quanti 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 Mi spiace Ma quella lì ha fatto una cagata Ha fatto Quelli là Sapete cosa fanno Mi stanno depistando Ora verranno di qua Sicuro Guardalo sto schifo Guardalo sto schifo Ma si È un po' più lontano il gancio No Eh Eh niente Ciao Gabbo Benvenuto Eh ma viene Aspetta un po' Che qua Quello lì me lo salvano Adesso Altro che Ah Merda Ma sei una vacca sei Ma dai Sto qua Sta tirando le cuoia Salve Comodo Vuole anche un massaggino No È di partito Ormai È di partito Ora vediamo Gli insulti Che mi tireranno Guardate Guardate la pancia Che Boom 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 Eh ha fatto abbastanza Cagare Eh Eh Il Batroc no Allora Io direi Di farvi vedere No cosa Mi è arrivato Un follow Benvenuto A Gabbo 00605 Diciamo sempre come Farvi vedere Michael Myers Proveniente dal Dal franchise Halloween È un Credo È il primo killer Su licenza Cinematografica Che Grazie ancora Gabbo Ave pazienza Grazie ancora Eh Benvenuto Ok Direttamente da Crystal Lake È un killer Molto interessante Ora vi farò Vedere Anche Come Come funziona Queste che vedete Qua Per chi non conoscesse Il gioco Sono delle offerte Appunto No C'è Non c'è No Ah no C'è Crystal Lake No Aspetta Come si chiama Deve uscire È uscito Birra Max In stream Fantastico Grazie Heva No Crystal Lake E Jason Ah Che Appunto Jason Vorise È protagonista Di un gioco Che ormai Insomma Sta segnando La sua Dipartita Ovvero Friday The 13th Game Venerdì 13 Il gioco In quale Avrà solo Patch E basta Aggiornamenti Altri Non Non saranno Previsti Per questioni Di diritti E roba del genere Ma Concentriamoci Su questo Michael Myers È il primo Killer Appunto Di Su licenza Appunto Prevenente Dal film Anzi Dalla serie Di film Halloween E ora Adonfield Ecco Sì 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 Io l'ho presi Qualche mese fa Quando L'ho preso Su Credo Su Humble Bundle No L'ho preso Direttamente Su Steam Allora Ora vi faccio Vedere un po' Come Come funziona Vedete In basso La scritta Perseguita Ora vi faccio Vedere Come funziona Ecco Con questo Riusciamo A ottenere Vedete In basso Che si carica Una sorta Cosa fa? Vuole essere appeso Sto qua Cosa fa Sta qui Sta succedendo Qualcosa di strano Ragazzi Ok Non c'ho Perché Ragazzi Non me n'era Accorto Uno è Crasciato Che cazzo Cazzo Me ne sono accorta Solo adesso Eh Dai che mi scoccia Anche Dai Dai C'è No Veramente Non Pop Non lo so Che il michelino È un po' Fortino Il michelino Vabbè Ve l'ho detto Lasciamola stare Ragazzi Eh Infatti Ma tu non hai Tempo Per questo Ah Ha 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 Ciao Franco Ciao Cioè mi scoccia pure Benvenuto Benvenuto Franco Mi scoccia anche Perché mi scoccia? Perché potrei essere io Nei loro panni E questo ti Ti cambia proprio l'esperienza Videoludica Eh se n'è andata Ma si ma siamo li tutti Dai tanto Chi se ne frega Non è che magari qua Di tanto Ammazzagli la testa Ah tra l'altro non può neanche Cercare la botola Perché non ha fatto Neanche due generator Ne ha fatto uno solo E ciccia Con la galapulta Stavo notando che Che la mia cagnolina Ogni tanto Spunta Vieni 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 Cosa Cosa vuol fare? Sì che se lo fai scappare Non ci perdi Marte 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 Ma si dai Tanto non mi costa nulla Su dai Brava Eh Io si gioco da pc No ragazzi Veramente Giocare così Non Passa Cosa vuoi Cioè mi passa Veramente la voglia Sì No Lei vuol farmare Allora Lei se fai pare T'alza il putteggio Non prende Ok La vuol prendere La botola Cosa vuol E vieni qua No E vieni qua no 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 Non Boh ragazzi Veramente Non No No Vabbè Vabbè la prendiamo Vediamo un po' Cosa fa Si dimena Non si dimena Agganciamola Vai Ma Ma uccidila E infatti è morta Dai Si infatti Ok Killer spietato Io sono un terminator Anche no Vediamo se mi insultano Qua Thanks You Welcome Vabbè No Ma Scherminiter No Ma Gabbo Sai Cos'è successo E' successo Che Ha iniziato La partita E Praticamente C'era Scusate C'era un Sopravvissuto E Slenderman No Ma C'è C'è Lei Comunque Allora Praticamente Ho iniziato Con Survivor In meno E ciò Ti cambia Praticamente Tutta La partita Tutta La partita Ti cambia E a me Quando succede Così Mi Mi Scoccia Slenderman Spaccherebbe Non state Credere Ma Che Anche Sta Qui Non è Male Il Nuovo Killer Originale Allora Allora Il Mori Il Mori Verde Si Mi Sa Tra l'altro Se ci fate Caso Il Killer Nuovo Con i Cappelli Così Rassomiglia Un po' Alla Signorina Silvani Non so Se vi Ricordate In uno Di cui Fini Fantozzi C'era Lei Che andava A letto Con Appunto Con Ugo Fantozzi E lui Prima Ha preso Un Qualcosa Di eccitante Che lo faceva Andare su Di giri Poi Fanno Quello Che devono Fare Lei Esce Dalla Stanza Questi cavoli Cappelli Qua No E Ci fa Mamma mia Che mi Sono persa Per tutti Questi Anni Mamma Mia Mi Fa Ok Allora Questa è la Mappa Di Freddy Krueger Ok Vediamo un po' Siamo Facewalk Durante Il Facewalk Siamo Invisibili Ecco Noi Non Possiamo In questa Fase Noi Non Possiamo Vedere I Sopravvissuti E Neanche Loro Ci Possono Vedere Possiamo Sentire Oh Che Cazzo Ma Sei un Ninja Eccola Lì E Cazzo Si Si Be' Cazzo Andata Minchia Che palle Sta qui Ok Ok Cazzo Fingerless Buonanotte Sopravvissuti E Volevo Eh Niente No No È tosta È tosta Bisogna Perché è venuta Qua Sta Sta qui Ok Allora Dopo di me C'è giusto Stay Con Outlast 2 Buonanotte To Fingerless Buonanotte Grande streamer Grande Spettacolo Aspetta Si si Il DLC Di Out No Il primo Il primo Outlast Scusa Avvi pazienza Il Whistblower Outlast 1 Ok Si 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 Eh Pazienza Il primo Il primo Eh To Fingerless Per me Il best streamer Ever Il cazzo Mi sono infilato No Sta Mega Naba Le hanno rubato 50.000 I Eh Oh 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 Si è infilata qui dentro Merda è andata di là Uuuuh Eccola No Non l'ho capita Possiamo ucciderla La uccidiamo ragazzi Ecco fatto Mamma mia che cattivo ragazzi Eh che figata Eh guarda Mi sa che lo devono nerfare però No hanno detto che C'è il Uuuuh Si perchè non t'ho vista no Assolutamente Pesa Dai 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 Sai che mi conveniva Costa 9000 frammenti Ridescenti Se non lo vuoi Pagare I soldi veri Basta qua Raccogliamo Oh ci abbiamo un gancio qui Perse senza senso La katana Adesso hanno messo qualcuno Da The Grudge Da The Grudge Perché Ah ok Non andare a salvarla Non andare a salvarla Non andare a salvarla C'è il borro Affan C'è ragione Che vuol dire Tu sei già morto E non lo sai In giapponese Cosa del genere Dice Kenshiro Cosa vi Ma perchè Inani 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 No non la capisco Sei una cretina Sei Un paolo Tissi Ma perchè Sono così Crettine Quelle Prima di andare Dall'altro Ma Cori Max Cori Eh ragazzi Miei Risposta Giapponese Cosa Sì ma c'è Ma hai capito Sta qua Ma cosa vai di sotto Merda E di qua Ebbene Sì perchè non ti ho visto No Non perdi sangue No Assolutamente Che palle Sta qui Basta Ma stufato Ah Nanico Ah Ok Vuol dire Cosa in giapponese Eh Abbi pazienza Che cazzo è finita Sta qua Dividiti McRumble Benvenuto Eh L'ho sentita Però Scusa Ma era qua Era Che si curava Benvenuto Ma qui sotto Guarda L'alicola Mmm Farmi parlare Male Ah Ah Qua Figurarsi Finora C'è scappato Solo un morto Ma Sai che fra un po' Quelle due lì C'è ancora Il generatore Lassù Però L'hanno ancora Toccato Mi sa Quello Scusa Andiamo un po' A sentire Buonasera Simpli Mamba Benvenuto No Niente Eh Vedi che Vedi che sei una vacca Eccola Ma fai sempre lo stesso giro Corri sempre E ora ti prendo Fessa Fessa T'ho vista T'ho vista Finita di nuovo Lì sotto Ma Come fare Questo giro Forever and Scusa Scusa Sì 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 Va bene Ok Ma io Intanto Mi avvicino Sempre di più Non hai capito Questo Ne Peccato Eh si è raffreddato Oh guarda un po' In cantina Eh si Che casino ragazzi Che casino Ops Vuole fare Oh guarda lì guarda lì Sta povera crista Che ci lascia le piume Guarda lì qua Sì perché non ti ho vista Allora Appendi al survivor Al chiodo Appendilo E vai E vai E vai Salve E buona vita Cioè buona morte Magari Ne manca una Ne manca una l'appello Ne manca una Solo non si vedono Due leocorni No non era così No non era così Nobody E signorina vuole una mano Vuole una mano Arrivederci E se l'altro Eeeh Eeeh Abbiamo una Lilith Che è il nome di un demone Se non ricordo male Lilith Demone di lucifero Se non ricordo male Grazie Nobody Samai Ah ecco Allora Se lei fosse furba Non verrebbe qua Ma si farebbe un generatore Prego prego Si accomodi Dai vai No Guarda Non ce n'ho voglia Veramente No Va bene così Non Sembrava al caso Si 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 Non credo Non si può salvare Ma è Cosa? Uh ah Ah ecco Praticamente 24 Toccavo lo sto dicendo Quello Ma praticamente Qua Non pensa Scusa Ma io non salvo I compagni Gli amici Che si nascondono Per tutto il tempo In un Armadietto Lei Mi ha Mi ha fatto il mori Ma tu Eri così Sexy Glamby Baby Eh Cosa? Ok Ryzen Grazie Un bacione A presto Ma Ma Eri così Eri così Eri così Eri così Eri così Ciao ragazzi Sopravvissuto Tanto Così Da Oh Ci abbiamo Una chiave Qua Passare Consumata Per aprire Le solature Oscure Grazie Del follow Divinity McCrumble Bello Bella per tutti Ok Entriamo in una lobby Vai Allora Questa Serve per C'è la botola Quando vedi la botola Questa chiave è qua Le altre chiavi Servono Ehm Alcune per vedere I generatori I ganci Con le robe lì Freddi 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 No Dai Dopo uso Freddi Allora Ah Tata Dai Rivelo Laura Eh vedi Sopravvissuti 24 metri Eh Vedi C'è qualcuno Che mi scrive Alienato Grazie Per il ride Benvenuto Ad Alienato 90 E al suo pubblico Grazie Ok Sì Sì Ma Guarda Le faccio Per così Eh Guardate Che mi ha scritto Ok Grazie Mi sei tonto Vostra Asp Ci abbiamo subito Qua Il nostro generatore Da riparare Ecco Subito Eh A sussarmi La canetta Inizio Allontaniamo Piano Piano Che cazzo Che paura Dai Che Eh Eh Infatti Infatti Bene Voi Grande Grazie The Lost Grande Grande Vedi Ecco Hai messo la trappola Dico Se sei bello Felice Così Arriva Quella Non passare Non passare Di lì Non passare No Una scampata Ok Grazie Ciao MacRumble Alla prossima Ah Sta camperando Lo schifo Qua Oh Grazie Io me ne vado Mi metto un po' Qui dietro Ma no Non body Non puzza Dai Perché dici così Oh Please No Si chiama così Cioè Un po' You filmi Si è aggiunta Alla sua lista Di amici Ok Chi è Si la Si Si Lava con Sapona L'acciuga L'acciuga è buona Testabilità Eccellente Ok Si si Volentieri Vueldi io ho il problema già è stato a fermare la derogate ok ora sto schifo visto dè che cazzo sempre io che palle no 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 eh cazzo che palle eh si che cazzo c'è una zanzara un qualcosa oddio ho già capito che bene madonna mia ecco no che sono un cane non è che sfiga ho una domandina per voi quello che cazzo c'era ma no vai facci facci magnana viga faccio la cura la cane oh ace ace ventura tempo prezioso borrow time via 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 madonna ragazzi se è vero che esiste creazione nessun'imitazione un'opera come di me eh si una specie si guardia l'aria si nascondi che succede là si ok ripariamo qua minchia eh che cazzo no venerdì tredici è uscito dopo di adbdm se ma è il contrario anche se è un pochettino diverso venerdì tredici la mappa è molto più grande i sopravvissuti sono molti di più e jason è molto più forte non venire qua spaccarmi il cazzo non venire qua brutto dai pezzo di merda dai che palle sto adesso sappiamo tutti dicono tutti venerdì perdere minecraft cosa cosa non ce l'ho mai capito cioè no perchè se io sogna che sono un cretino cioè madonna cioè veramente boh vedo che accettiamo invito un gioco come dbd mmm non credo cioè non che io mi ricordi sinceramente ha creato un nuovo sottogenere survival horror asimmetrico c'è c'è dbd venerdì 13 non è no però e ci mancherebbe scherzi non so dire c'è c'era la botola lì non è capito eh si diciamo c'è una danzara che gira vediamo un po' come va a finire sta partita loro qui qui non bene perché ci avrà un dolorino domattina che ci avrà una piccola contrattura sensuji mod ah vabbè non so poi vabbè dopo questo venerdì 13 è uscito giusto soul at stake quello ah garris mod garris mod non ho mai giocato sta che non so qui camper mmh death life 2 mmh e e e e poi è uscito anche identity v identity 5 che dir si voglia per cellulare credo se non ricordo male ecco 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 però se allora andiamo invita coppia e incolliamo allora parliamo di qualcosa che è amatoriale che casino ecco tutto a posto tutto a posto tanto sto finendo di vedere la dipartita di questi di questi sopravvissuti eh cavolo è stata finchia già con l'uscita dai dai che ce la fai non fare non fare non fare come me su no eh non ho capito non hai tipo dei dardi che ci ha usato eh no no eh infatti cacchio no sei scollegato dai eh ma perché david king non lo uso quasi mai e non non c'ho trasferibile il problema è quello vorrei magari cercarlo sulla quando c'è la religiaria magari eh vabbè niente ci ha ammazzato tutti pensavo di essere l'unica vabbè e niente è finita è finita ok allora come dice noi prima di non si 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 nascondila di di slasher allora survive with friends allora eccoti eccoci it's bruno ciao benvenuto bentornato che bel capellino che abbiamo che abbiamo qua hai visto eh si si come si sono lì eh si è quello secondo me è perché ti mancano dei dard sai ti ho dovuto fare due o tre e infatti 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 allora cambierai e un bel vestito per mo speriamo di no eh cavolo cioè allora allora cassa 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 di attrezzi ok metto leggermente no c'è questo va che aumenta leggermente la fortuna dei sopravvissuti vai che magari speriamo si antisgamo proprio anche anche i sbisconti proprio eh un figurino è scicca pure lui no mamma speriamo bene dai si si tranquillo si si dai allora te tanto che giochi eh si ora sono tantissimi tantissimo tempo c'ho 1700 ore eh beh eh poi un po' mollavo un po' tornavo un po' mollavo però sì un po' diciamo sono normale dai ok ok diciamo che non sgancio la gente sotto l'erbietro eh beh no io sono 400 e qualcosa non tantissimo anche mi diverto più da killer eh per forza il killer io io vuoi perché sono appassionato di film horror sì qui ce ne stanno mettendo anche proprio eh sì sì c'è almeno diciamo si stanno impegnando parecchio eh c'è ruin aspetta faccio ruin uh c'è ruin ah ecco ma ancora con passo lo skill c'è qua sì il ruin è noioso infatti guarda lo sto cercando sì sicuramente secondo me a parte lui ci avrà anche il noido quindi se trovi qualche totem per giro parlo uh 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 c'è il mandriano qua mandriano che ti taglia una mano via eh niente dai ma come hai fatto a prendermi fuggito fuggito che sei quasi mano mi ha preso non ci credo eh ora mi ha preso niente eh cioè ma come cacchia ha fatto a lisciarmi con la motosega non lo so ecco chi ha il primo ad essere appeso max ovviamente gli altri eh cioè questi sono là dietro uno è nascosto l'altro sta venendo ok sa che sta tornando via sta fuggendo l'altro uh merda ma proprio io addosso gli devo andare no vabbè la motosega cinese si eh che cristo dai che palle no vabbè cioè ma che dite ragazzi se sto nascosto tutto il tempo ce la faccio a vincere a uscire dalla mappa eh che dite non credo oh grazie ace via tu sparisci ora si si ora no 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 si infatti ma come ma killer come mestiere è legale non può essere la guardia ma io sto curando sì e se sta venendo in conti sta venendo da prendere dove è l'altro sì 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 c'è l'ho qua c'è l'ho santi sennò qua non ci muoviamo più eh ecco pipon mh eh ma è un altro streamer quello lì ah zigao ci ho portato a casa adesso dottor max grazie del ride benvenuto a te e al tuo pubblico buonasera il mio omonimo no ma sono tutti cioè no vabbè mi sa che mi tocca partita strange questa sì merda sta tornando in qua sto schifo non mi ha visto non mi ha visto e vado a liberare questo no no signorina signorina la tiro giù io no 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 via 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 cristoforo colombo l'uomo del nuovo mondo non ci credo ecco mamma mia stasera proprio non ci siamo eh i max sono i max hai visto eh a posto aspettiamo 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 a questa cazzo di traduzione di morto stecchito la vogliono mettere a posto cioè che ci portano eh infatti infatti sul canale 50 del vegetale terrestre dai ma l'avevo premuto lo spaceboard perché eh questo gioco brutto eh ma l'hai visto proprio che le mani l'aveva portato se 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 beh mi dà l'ora di direte volevo mettere un cuore lo dottor max eh non so come mai no se se cosa fa si mette qua si accucciata ah viene da te dai non è altro beh ti liscia le mele si tocchina ma un po' messaggino cinese paura no dai ma che cavolo ma non ci e nessuno qua che eh era andata dell'upper vabbè dai non importa ciocata male io dovevo fare un 360 eh vabbè dai ma 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 ecco il tempo il pip no si l'ho tenuto si zero ok questo gioco ogni volta che lo vedo mi viene sempre voli guarda il dottor max saresti tipo il petta allora ha preso wedi l'ha preso al core 3d l'ha preso guzilla l'ha preso boom un po' di streamer che l'hanno visto giocato da me basta ah lo prendo lo prendo figata figata seppure non mi sembra di essere una cima a giocare però ha visto un po' l'atmosfera e tutto cavolo un gioco diverso dal solito in effetti eh guarda se se ci fosse dietro uno studio come si deve c'è della gente un po' più preparata ci avrebbe fuori venderebbe il triplo venderebbe il triplo decisamente oh vedi uno forte finalmente vai uno ce l'abbiamo bravetti ci salvavano la torce eh quest'altra ah quest'altra bo vabbè però ha ragione X a me X Andrea non fare una droga è una droga legale non lo vede davvero profilici come me 172 c'è sta il fegato viola ti viene a giocare sto giuro nicchia ecco cosa ho detto prima l'ho venuta nooo che palle vediamo un po' se si sbagga eh sì non c'è che è brutta no vabbè taci va già bene nooo ma che ma perché scappano tutti non vogliono giocare oh dai vai come 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 sei vestito c'è cow flamboy beh tu si che ci darai ci darai forza eh cow flamboy con la tua torcia ci risolverai tutte le situazioni no perché ah ok l'altra non ha più messo pronto ha sprontato l'altra glory no no ci abbiamo sperato che avesse anche lei la torcia eh ci ho fottuti no vabbè non ne abbiamo eh preghiamo bene che venga un killer normale eh infatti infatti ci spera dai questa te la faccio vincere su dai su no no la faccio vincere faccio bodyblock finchè non muoio grazie vogliono tutti a parte spero che oh mamma mia amo auto even dai 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 abbiamo milioni di pallet e vai tutti in testa al killer finché non diventa intelligente infatti eh infatti allora qua 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 ruin eh che cavolo faccio il copo ma il verde fa schifo cerco comunque il top dai verde non è un problema ce l'ha qualcuno mi pare una rovina lo spaglio ah è la nulla quindi tranquilla come cosa mh eh se si incontro a giocare poi si mette quello dei totem si mette il muore e dove non si è inciso di subito adesso si fa studere subito adesso si mette ma ah 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 dai 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 ah 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 vada a salvare allora ma che c'è attrice tranquilla finchè 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 non lo sa no ma ha sgamato misericordia no 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 che cazzo ma c'è che ti copisce da due chilometri si proprio grande ho evitato atterraggio abbiamo paura ma se ne è tutto a niente grande chi lo sa no non ce l'ho fatta eh vabbè ma sai un bodyblock ti salvavo eh mmm è troppo lontano lo stavo facendo quel totem schifoso la rovina che usano tutti oramai come se fossero te la porto lontano si si no infatti infatti minchia l'altro è dall'altra parte della mappa vabbè c'è quell'altro lì che forse no eh se no posso provare una cosa rischiosa muoio vicino a te uso il decisive e ti salvo oh minchia se sbaglio il decisive eh non mi sa intanto lo sto alluppando qui eh eh vedo vedo eh ma guarda ma stia girando giù via via ecco ora ok ah è scarse ho fatto la pinta di entrare e c'è cascata via è un killer che perde pazienza si mi sta seguendo pesantemente perché mi vuole tirare giù ah ok perché riesco la tengo ok si si tante sono qua ok attento c'ho il decisive speriamolo piglio speriamo di prenderlo eh vabbè sono il cane niente ahhh sbucciata ahhh e perché è più utile ma anche inutile se lo sbaglio ehhh ting grazie del follow ora controlliamo chi la lascia no aspetta che io qua me ne vada perché sta qui no non venire qua perfetto sta che sta tornando indietro eh eh si li sto andando beh dai non ho lauri potevi curarmi maledetta eeeh come faccio ora vabbè uso il desert a che caso ssssss merda eh eh ma perché questo lui mi ha lasciato così io boh ciò parola ho ma curato ho pezzo lo skin check daaaai amica va via eh è la strozzetta eh aspetta che Vediamo un po' se Vediamo un po' dove Eccoci Sì Eh Infatti E via Siamo a buon punto eh Sì sì Speriamo Qua Eccolo lì E uno Se finisce Se ne lascia uno in tre Sì Eccolo lì Vai E poi si salva lui Non ce lo dovrebbe essere Speriamo Eccola Sa che sta Occhio Sta arrivando E' la saetta Eccolo Eccolo Parca Ok E' evitata Merda Eeeh Lo sapevo Lo sapevo Noo Noo E' domani guarda Noo Sono da mia suocera Noo Noo Non riesco Guardi Abbi pazienza Ecco Proprio Non ce la faccio Essere Vai giocare anche lei? Ma chi? Mia moglie? ma leggere qua su ps4 eh no sul computer mi ci trovo tastiera di qua di là di su mettiamo il pad no no su ps4 va bene live from the suocera ah la suocera potete giocare la te o no vabbè c'è ora non esageriamo che paura poi ha preso lui ok tipo questo eh si la vedo dura falla ma ce l'ha dietro lui vediamo un po' se lo siede vai perfetto allora lo sta seguendo lo vuole fare fuori se infatti eh che cazzo che palle sta qui tornata al generatore quello lì eh ho visto ho visto ma io dicono l'altro cosa cavolo sta facendo ma cioè io veramente non ho parole ma donna torniamo qua eh cacchia eh ho visto porca puttana l'ha finito adesso merda è uno scherzo cioè è uno scherzo l'ha finito nooo quando fa non poteva finirlo no c'ho adrenalina mamma mia non avevo detto che però uscivi eh si grazie ce l'abbiamo fatta dai giù cazzo spediamo no cazzo te l'ho buffata che cazzo è sta che cacchio fai ecco 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 e vai ecco la che la vince dai signora cosa fai dai andiamo ecco fatto ecco fatto ragazzi ci abbiamo ancora tempo per una partita chiedo a voi in chat o passiamo la pala al balzo a ste fate vobis eh io chiedo a voi perchè amici ti è giunto alla lista dei mici un altro ok allora ah ok dottor max giusto dottor max che grazie mancate del follo si è messo aperto l'antivirus fantastico così a caso che dite ragazzi mmm non non ci fermiamo qua ste ci sei non ste si morti tutti morti mi c'è mi c'è no eh ci fermiamo qua ragazzi la chat è morta non colpo di sonno colpo di sonno sono tutti svenuti vabbè 2.56 facciamo ancora una Weldy eh Weldy che risponde che dite dai ne facciamo ancora una ci sei io ci sono ma stiamo vedendo una cosa sto su photoshop vabbè facciamo ancora una poi lasciamo invitiamo anche questo ragazzo polacco ma 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 giunta adesso la faccio la faccio dai dai l'ultima l'ultima ecco niente ok niente lui sta giocando sta già giocando sto ragazzo ok si vede che è uno di quelli che abbiamo beccato prima ma boom ha giunto boom non so è troppo forte da voi eh e come come l'aglio come l'aglio allora mmm mmm ok andiamo un po' inizia proprio più lontano dal passaggio da killer eh eh che non sarebbe male che pelle così mmm 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 eh adesso da mmm due orette boia si ma tipo una maratona di 24 ore in cui ci alterniamo diversi streamer ah ok cioè vi passate si si ogni due ore ci diamo il cambio infatti questo non è il mio canale canale di element gaming del network carino sta cosa mmm mmm no poi praticamente mmm faccio live più o meno tutte le sere da dieci e mezza eh oh no mi diverto si ma poi passi due orette fai due orette fai due orette fai due orette fai due orette guarda ce n'è stato uno che faceva un generatore uno e l'ultimo l'ho fatto proprio quando mi ha preso è il fatti madonna guarda cioè basta che lo colpiva eh è vero è vero è vero è vero è vero è vero nooo the game eh questa è una mappa brutta devo essere sicuro eh ecco e c'è la maiala appunto la scrofa la maiala non la sopporta tanto eh si una cosa buona è che ha il raggio del coltellino corto quindi non ho un'altra eh infatti non è freddo e Kruger mi fa da qui al basement con la barra alzata eh 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 uh uh esatto ah ma non trovo un generatore l'ho già trovato la sto guardando e sono già a tre quarti a tre quarti ecco questa ce l'ho apri minchia ma c'ho capo t'ha fatto l'agguato mh mh eh sai poi stai pure l'agguato allora vediamo al prossimo forse è qua no eh figurarsi qua qua rispetto al pallet non è stupida? mmm sto girando da tre ore ma si ferma eh non mi che scena devo pregare per trovare un pallet eccolo ecco 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 dove fa? vabbè va sotto vi faccio questo va ragazzi volevo resistere mi sto guardando sul pc notte ok buonanotte Weldy buonanotte ok 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 tipo è tre ore che sta seguendo me vuole il mio cappellino ma non glielo darò questo mmm ahahah 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 ah non ho più pallet aiuto nè niente merda ci sono più pallet ce l'ho finito tutti sto parlando ci sono più pallet ufficialmente eh vabbè trappolino classico dov'è? occhio occhio eh 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 vaffan buono buono bravo questo è il buttatore eh pensi speravo tipo di bloccare ma alla fine ma eh eh un ragazzo sta facendo un generatore l'altro ok questo mi ha tirato giù ok allora troviamo un altro ah qui dietro era potrebbe scendere uno forse è già iniziato ma sentivo qua sopra ma dai no ho uno nell'armadietto non lo posso vedere no dai l'ammazzo ti giuro l'ammazzo lo riporto ma nell'armadietto no dai ti scongiù tutto ma non lo so ti puoi proprio tintare e esco su ah dai allora lasciamo un pelino così non facciamo partire il timer bene l'ha trovato minchia amore ma come ci voglio sei di sotto aspetta eh si mi ha tirato giù mi ha tirato giù ah ok si 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 mi ha già salvato diciamo la regola ce n'era un altro che mappa brutta ah niente via voglio se mi vedi fuggi prima che ti porto il killer però dietro un'altra volta si si mi sta praticamente tunnelando ecco l'ho vista miechia che palle eh mi sa che non ce la faccio no no scappa scappa niente 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 non ti preoccupare mi spiace bene tranquillo tranquillo intanto sei già setteci arrivati a tre generatori quindi due e ora finiamo che era di sopra si era di eccolo qua che c'è che que che è che è che che Dai 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 Merda Non metterla No, gli ha messo la trappa Cazzo Adesso lo finisco Lascerlo un pochettino Ma tu finisci Che ho diventato a me E ne so Eh sì Ska, pensa al tuo Lui troverà una maniera In qualche maniera Ti tira la porta Che tanto verrà da te sicuro Come la morte Preparati Ah, guarda cazzo Che c'è lì Atterra Hai capito? Buttati poi Torna ti butti da lì Sì sì Da una parte penso che Se ti fa anche lo scudo Lui riesci a uscire Sicuramente è ritardato E non te lo faccio Andiamo Andiamo un po' Ah Ok, ok Andiamo un po' Se Ah, giusto Dove cavolo era più? Eh, via Eh È andata Meno male Meno male GG Grazie Oh Signori miei Ci lasciamo E Mi do il cambio Cioè Do il cambio Dovrò darmi il cambio Stefano Ste E lui E lui Porterà Outlast Col DLC Whistblower Io stacco E Ci si becca Alla prossima ragazzi Buonanotte E Ci si vede Ciao ragazzi Buonanotte Buonanotte Notte Notte